Oggi ci troviamo al campo sperimentale di Tombolo in provincia di Padova dove ogni anno testiamo le nostre varietà a catalogo con altre sperimentali. Oggi ci troviamo qui per il nostro annuale Field Day dove agricoltori, rivenditori da tutta Italia vengono per toccare con mano le varietà, i nostri miscugli. Grazie a tutti. E' la vecchia del bengala, fettupatie quindi capire anche se mantiene qualche resistenza. Siamo davanti al frumento Oceaga Campania. Tu invece come ti stai trovando? Si sta sviluppando come appunto mi avete detto, l'abbiamo seminato a febbraio. Sta veramente raggiungendo quello seminato a novembre quindi devo dire che se il nostro viene fuori così siamo no contenti di più ancora. Grazie a tutti per la numerosissima partecipazione e ci vediamo al prossimo Field Day. Ciao! 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 Ciao!